Nono livello di gara, 400-200 ibu, 100 lante. Come vedete mancano 7 minuti alla fine di questo livello di gioco. Inquadro la sala e come vedete tra un card guard particolare che forse avete letto sul forum e le bellezze che abbiamo potuto ammirare, nel frattempo la sala è ancora piena. Questo significa che nonostante i bui abbiano un incendio abbastanza incalzante, i giocatori sanno gestire abbastanza bene il proprio stack e prendendosi pochi rischi ancora non registriamo una forza caduta di giocabilità per quanto riguarda il torneo. Noi ci diamo appuntamento ai prossimi aggiornamenti della sala, come sempre Poker Italia Web. Vi ricordo a fine giornata come sempre il resoconto finale per quanto riguarda tutta la giornata di Poker che abbiamo vissuto insieme qui a Malta. Non posso che darvi l'appuntamento ai prossimi aggiornamenti. Ciao a tutti!